salve siete sul canale pratiche sartoriale alla moda vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana oggi continuiamo il nostro lavoro con la blusa estiva con piega centrale e in particolare ci dedichiamo alla realizzazione al colo del quale parte la piega centrale davanti questo è un dettaglio particolare e richiede un lavoro particolare abbiamo davanti a noi il capo aperto senza le cuciture alle spalle per farvi vedere meglio la prima cosa da fare dopo aver imbastito fatto la prova esserci assicurati che è tutto a posto e fissare la linea del scollo davanti questa qui come si vede abbiamo fissato con una sottiglia striscia adesivo di 0 5 0 7 cm ce l'abbiamo rinforzata proprio la striscia è stata applicata seguendo la forma del collo senza tirare troppo è molto importante farlo ancora prima di cucire la pence molto molto importante vedete deve essere completamente piatto il collo a differenza della zona della piega dove si è formato questo volume prima di cucire la pence rinforziamo la scollatura dopo di che facciamo tutto il resto vedete questa deve essere così vedete questo è il volume del seno ma il colo è piatto vorrei far vedere anche il tessuto adesivo che abbiamo usato vedete è leggermente elastico sulla trama e fermo sull'ordito cioè sul dritto filo vedete fermo assolutamente in dritto abbiamo tagliato queste strisce di 0 7 lungo la direzione elastica abbiamo adesivato tutta la circonferenza del colo ci sono anche diversi tutorial che fa vedere questo tutto lo scuolo tutto arrivati a questo punto devo dire che esistono tanti varianti per rifinire una scollatura noi abbiamo scelto la variante più semplice abbiamo ritagliato una paramontura che arriva fino alla piega del tessuto davanti cioè posizioniamo bene tutto perché deve combaciare alla perfezione vedete abbiamo fatto una paramontura che segue tutto fino alla piega vedete posiziono tutto deve combaciare alla perfezione con lo scuolo con un taglio dello scuolo l'altezza della paramontura è di 5,5 centimetri vedete questa è la piega il centro davanti è qui la paramontura si fa su tutto fino alla piega è veramente c'è fate attenzione questo non è il centro davanti è la piega del tessuto il centro davanti è qui quindi la paramontura si fa tutto il col davanti è piegata in due e la piega corrisponde alla piega del tessuto questo semplificherà tanto il nostro lavoro e mi raccomando la paramontura deve rispettare il dritto filo del tessuto questo è il dritto filo la paramontura è stata tagliata rispettando questa direzione noi abbiamo già ritagliato la paramontura e l'abbiamo anche adevisivata per fare la paramontura abbiamo usato un cotone bianco leggero lo stesso che abbiamo usato per la parte interna del carè praticamente il carè e la paramontura e per fare la paramontura abbiamo usato un cotone leggerissimo e anche il tessuto adesivo che abbiamo usato è sottilissimo e leggerissimo vedete è molto molto leggero è proprio quello che si usa per il chiffon in modo tale da evitare troppo spessore quando faremo la piega mettiamo da parte tutto e torniamo al nostro lavoro abbiamo messo qualche spilo e abbiamo segnato un paio di punti di controllo adesso vi facciamo vedere questo non serve più questo è il cartamodello della paramontura come vedete questo tuttavia non ci serve più e guardate cosa abbiamo qui facciamo dei punti di controllo piccoli c'è delle tacche praticamente perché essendo la scolatura abbastanza profonda la linea è più lunga e dobbiamo essere sicuri che tutto sarà perfetto e che la paramontura non si sposti quindi abbiamo segnato con la pena e le tacche non serve neanche fare le tacche vere e proprie tagliate basta segnare con la pena si fa per la nostra tranquillità e di solito si fa quando abbiamo dettagli lunghi in modo tale che tutto combaci non si sposti e non faccia insomma dopo difetto adesso dovete fare assolutamente centro con centro della piega vedete adesso apriamo il davanti oggi ci aiuta margherita adesso vedete come si presenta la linea della scolatura è abbastanza grande qui abbiamo le tacche che segnano i due punti centrali che devono essere sovrapposti per poi creare la piega e al centro abbiamo questo leggero angolo sulla piega del tessuto e poi ci sono i nostri segni con la pena adesso uniamo con la paramontura si fa dritto contro dritto e si devono combaciare i punti di controllo mettiamo anche qualche spilo vedete i nostri punti di controllo li abbiamo fatto e combaciare accuratamente sinceramente non serve imbastire abbiamo sia gli spilli che i punti di controllo ma chi vuole lo può fare ovviamente non è proibito e lo facciamo solo sul davanti il dietro è già fatto se volete vedere come si unisce la paramontura con la linea della spalla e con il dietro scriveteci e vi faremo vedere insomma basta che ce lo scrivete nei commenti poi faremo un altro tutorial sto osservando come mette gli spilli margherita parte dal bordo verso l'interno ognuno ha il suo modo poi così quando puce è più facile togliere lo spilo perché l'orecchio rimane sulla destra grazie al fatto che abbiamo adesivato il colo dal rovescio con la striscia il tessuto rimane fermo ed è facile lavorare questo trucchetto può esservi utile in svariate occasioni adesso possiamo iniziare a cucire cuciamo a distanza di un pedino cioè 0,5 cm segniamo il centro e iniziamo margine cucitura 0,5 cm come ho detto è sempre molto bello osservare come lavora margherita è davvero un lavoro da maestro seguiamo poi con attenzione la linea del colo e andiamo avanti attenzione arrivanti al punto della piegatura sul tessuto davanti guardate arrivate a questo angolo vedete come deve essere posizionato l'ago si alza il piedino con l'ago nel tessuto e si gira per andare avanti per mantenere l'angolo l'importante è fare questo assolutamente si fa questo per mantenere l'angolo come ho detto e come vedete anche margherita che ha tantissima esperienza con modelle molto difficile lavora con tanta attenzione perché questo è il momento più importante cioè la faccia del nostro capo capite quanto bisogna essere attenti perché nonostante la sua bravura cioè lei ha un'esperienza pazzesca ma qui si va piano perché chi va piano va lontano stiamo finendo di unire la paramontura ecco qui il risultato come vedete la forma non è cambiata la scolatura è tutta a posto non è tirato non è deformato non fa onde insomma è a postissimo prima dell'impuntura interna dobbiamo diminuire i margini da parte della paramontura questa qua questo qua si fa per scalare i margini di cucitura che rimangono all'interno ed evitare la formazione di spessore vedete come fa margherita togliamo 2-3 mm dalla parte della paramontura lo facciamo nonostante il tessuto sia un tessuto leggero lo facciamo nonostante il tessuto sia un tessuto leggero immaginate quanto Olga sarà bella ecco qui dopo aver scalato adesso facciamo piccole tacchete per far sì che girando la paramontura si posa bene e segue bene la forma è importante fare anche questo soprattutto quando si lavora con delle linee arrotondate ecco qua proprio piccole piccole tacche e arrivati al punto della piega davanti è molto importante fare la tacca anche un po' più profonda le altre servono solo per dare una bella forma e ora siamo pronti per fare l'impuntura interna fate attenzione adesso come si fa il margine della cucitura rimane dalla parte della paramontura giriamo il tessuto bianco e facciamo l'impuntura a un millimetro verso l'esterno praticamente cucciamo sul tessuto bianco per farvi capire sulla paramontura qui a un millimetro iniziamo a fare l'impuntura seguite bene come sta lavorando margarita aiutandosi con le mani apri e cuccia un millimetro verso la paramontura cioè piega tutti i margini verso la paramontura e in questo modo arriviamo nella zona della piega del davanti vi ricordate che lì abbiamo un leggero angolino vero? non arriviamo alla punta dell'angolo a circa un centimetro ci fermiamo e ripartiamo sempre a circa un centimetro è come se facessimo in due etappe prima da una parte dell'angolo poi dall'altra ecco arriviamo a un centimetro del segno che abbiamo fatto con la pena vedete qui il centro della piega ed ecco il centro della paramontura qui c'è un piccolo angolo non serve fare l'impuntura fino alla punta di questo angolo per non creare spessore arriviamo a un centimetro ci fermiamo facciamo il rinforzo e poi ripartiamo un centimetro dall'angolo vedete da qui partiamo lasciamo un centimetro e continuiamo e anche l'impuntura deve essere perfetta ovviamente scrivete nei commenti se non siamo troppo espliciti tutto deve essere perfetto in quello che facciamo facciamo l'impuntura fino alla fine finiamo fino alla fine come abbiamo iniziato ed ecco il risultato ecco come si presenta la nostra impuntura vedete centro piega lasciato il margine come ho detto e siamo andati avanti adesso dobbiamo girare e imbastire giriamo la paramontura verso il rovescio lasciamo che si intraveda un mezzo millimetro del tessuto e imbastiamo con punti inclinati abbiamo preso il filo in contrasto così è più facile vedere imbastiamo tutto il davanti poi andiamo alla taglia cuci per fare l'altro bordo della paramontura arrivato al centro della piega davanti margherita con le mani si assicura che l'angolo c'è questo punto qui non deve essere rotondo deve essere proprio ad angolo abbiamo fatto l'attacca più profonda proprio questo per far sì che sia angolo ed ecco qui la nostra paramontura imbastita ora dobbiamo fare la taglia cuci sul bordo come dicevamo la paramontura è alta 5,5 dopo la cucitura adesso è diventata 5 cm chi vuole può scegliere di farla più piccola decidete voi è tutta una questione di scelta e adesso passiamo con la taglia cuci il bordo inferiore grazie 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 con attenzione ci avviciniamo al punto dell'angolo con la taglia cuci si può fare anche leggermente rotondato non è obbligatorio fare ad angolo. L'importante è che l'angolo ci sia sopra all'impuntura. Facciamo attenzione che il tessuto non finisca sotto il coltello della tagliacucci. Con le mani dobbiamo sempre sentire tutto e andiamo avanti fino alla fine della nostra paramontura. Bene finito ora possiamo andare a stirare. In questo momento è molto importante ricordarci che dobbiamo fare movimenti con attenzione senza andare da destra a sinistra. Seguite come lavora Margherita. Bene. Vi ricordate che non abbiamo uno scuolo AV ma in realtà in questo punto abbiamo una piega. Quindi dobbiamo fissare la paramontura in questa zona. Margherita metterà gli spili se invece qualcuno preferisce fare uno scuolo AV in questo momento ha già finito il lavoro. Se volevate il scuolo AV pensate che il vostro lavoro è già finito qui. Andiamo alla macchina da cucire. Dobbiamo fare una piccola imbastitura in questa zona. Ecco, vedete fino a qui. Lo facciamo per evitare che quando poi facciamo la piega i due strati si spostino. Margherita imbastisce per fermare i due strati. Non serve fare tanto lunga la imbastitura. ora dobbiamo fare una cosa importante. Dobbiamo segnare la linea del centro della piega sulla paramontura, e anche la linea del centro davanti. Vedete? Questo si fa perché il centro della piega deve sovrapporsi al centro del davanti. Facciamo qualche punto con l'ago sulla linea del centro della piega per fermare gli strati. Ecco come si presenta il nostro davanti dal dritto in questa fase di lavoro. Ora dobbiamo semplicemente fare la piega. Seguitemi con attenzione. Abbiamo davanti le due linee del centro davanti, sul lato sinistro e sul lato destro. E in mezzo abbiamo il centro della piega. Tutti questi punti devono sovrapporsi nella stessa linea. Quindi prendo da sinistra, vado verso destra, sovrapponendo le due linee del centro davanti. In questo modo il centro della piega rimane all'interno. Vedete? Più in basso ma sulla stessa linea. Questo è il centro della piega. E più giù ma sulla stessa linea. Ecco. Questo deve essere il risultato finale. Questo è il centro davanti della parte sinistra. Qui all'interno vedete il centro della piega ed entrambi sono sopra la linea del centro della parte destra. Non abbiamo preso semplicemente fatto una piega sul centro del davanti, ma abbiamo fatto una piega intelligente. Questa è la linea del centro davanti nella parte sinistra e questa invece è la linea del centro della piega. Prendo il tessuto piegando a metra tra queste due linee e sovrappongo le linee centrali destra e sinistra. Ora guardate i miei movimenti. Vedete? Prendo e sovrappongo semplicemente i due centri. Ecco, vedete i fili colorati che sienano i due centri. E poi all'interno abbiamo il centro della piega che come vedete è sceso verso il basso. Come vedete tutte e tre le linee sono sovrapposte. Penso che abbiate capito. Almeno lo spero. Adesso mettiamo qui uno spilo. Lo facciamo per fermare la piega e poi sistemiamo tutto in modo che le due parti della piega all'interno siano uguali. Non dobbiamo tirare, semplicemente dobbiamo lasciare che la piega segua il suo corso. Dobbiamo solo fermarla. Margherita adesso sistema tutto. Ecco, vedete molto bene. Si vede la parte esterna della piega visibile sul dritto e poi si vede anche la parte interna. Che invece rimane al rovescio. Si vede chiaro come queste due parti della piega sono uguali. Questo momento è importante per avere una bella piega. Bene. Adesso Margherita sistema bene tutto. Con le mani posiziona bene il tessuto e la piega. In pratica la piega interna deve entrare e scendere verso il basso. Non dobbiamo tirarla verso l'altro. Una volta visto che posizione vuole prendere, la fermiamo con gli spilli. Non dobbiamo tirare per farla combacciare nello scuolo. La piegate così come segue il suo corso. Ed eccoci qua. Possiamo mettere gli spilli. Vedete dove li mettiamo? A qualche centimetro in basso. È lì che inizia la piega interna. Poi andremo a fissare la piega prima dalla parte interna e poi dalla parte esterna dal dritto. Sul dritto praticamente ci sarà una cucitura che continua la linea della scolatura. E sul rovescio invece andremo a fissare, ecco questa parte, la piega stessa qui. Quindi per prima andiamo a fissare proprio la piega interna dal rovescio. Attenzione, ora inizio a far vedere come fissare la piega. Per prima cosa faremo una cucitura orizzontale qui. Adesso traccio una linea con il righello così si capisce. Questa linea non si può fare più in alto perché la parte interna della piega rimarebbe fuori e non sarà fissata. L'obiettivo di questa cucitura è fissare sia la parte interna che la parte esterna della piega. Qua sopra in alto non possiamo, come vi ho detto, la piega interna è scesa molto più in basso. Quindi non si può fare. Ecco perché proprio nel punto dove ho disegnato la linea. Qui rinforza sia la parte esterna che la parte interna della piega. Ora possiamo fare la cucitura. Proprio in questo punto, non più su e non più giù perché non sarà bello. In questo punto esattamente faremo una cucitura di bellezza. Che rinforzerà sia sopra che sotto. Il rinforzo all'inizio e alla fine è praticamente di un paio di punti. Non di più. Non di più. Al rinforzo all'inizio e alla fine, come ho detto, non più di un punto due. Perché è sul dritto e si vedrebbe molto brutto. Bene. Ed ecco come si presenta dal rovescio. Vedete la parte interna della piega è stata fissata. Adesso possiamo togliere tutta la imbastitura e gli spigli. E ci vediamo al piano da stiro. Perché bisogna anche stirare. Eccoci qua. Davanti a noi si vede solo la cucitura. Abbiamo tolto fili e spili. E adesso stiriamo di nuovo la scolatura. La piega si stira solo in questo punto. Solo all'inizio. Poi scende morbida e non va stirata. Solo inizialmente, dandogli la direzione. Dopo rimane morbida. E adesso vediamo dal rovescio cosa abbiamo fatto. Direi che è tutto perfetto. Passiamo con il fiero anche sul rovescio e abbiamo finito. Direi un grande applauso alla nostra Margherita. Che è bravissima. Adesso vi faccio vedere tutto. Quando poi uniamo le spalle, avremo questo risultato. Ecco come si presenta sul piano. Vedete la piega quanto interessante. Ed ecco come starebbe sulla nostra cliente, Olga. A me piace moltissimo. Adesso vi saluto. Mettete like, fateci delle domande, commentate, condividete i nostri video, iscrivetevi al nostro canale e comprate i nostri corsi. Sono molto felice di aver presentato questo masterclass insieme a Margherita. Rimanete insieme a noi, con voi siamo stati noi, Irisha Margherita e tutto il nostro team. Grazie a tutti.